E' molto misterioso, è una domanda, non sappiamo rispondere, sappiamo rispondere. Questa è la domanda fondamentale, questa domanda è complessa, è complessa. Più la si osserva, più la fisica quantistica diventa misteriosa e fantastica. Il punto è, quanto ti vuoi addentrare nella tana del coniglio? E' plausibile che tutto questo sia soltanto un'illusione da cui non possiamo affrancarci. Le persone influenzano il mondo che vedono? Potete scommetterci. Cos'è la realtà? Che cos'è la realtà? Vi siete mai chiesti di cosa sono fatti i pensieri? Credo che sia così misterioso. Non si può spiegare. Il vero segreto non è vivere nel familiare, ma vivere nel mistero. Pensateci un attimo. Cos'è la realtà? Ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.